L'amministrazione comunale di Leporano ha organizzato una serie di eventi riguardanti il Natale, come a dire la destagionalizzazione perché cultura, spettacoli, tradizioni devono riguardare l'intero anno, i 365 giorni. Questa sera siamo qui presso la Sala Margherita del Castello Muscettola per la rassegna dei cori natalizi delle varie parrocchie provinciali. Un modo per sentire il Natale in modo più forte, più intenso, i cori natalizi ne sono l'emblema. Noi siamo partiti con una serie di eventi che riguardano il Natale a Leporano. Siamo già partiti a diverso tempo. Questa sera abbiamo una serata che riguarda un po' tutti i cori delle parrocchie vicine a Leporano. Quindi una serata bellissima da trascorrere insieme al calduccio della Sala Margherita della Casa di Leporano. È un fatto positivissimo perché comunque si aggrega. C'è un momento di aggregazione soltanto per la comunità aleporanese ma anche per coloro che vengono qui nel nostro paese. Noi siamo sempre accoglienti e accogliamo a braccio aperto tutti quanti. Voglio proprio evidenziare il fascino delle tradizioni, questo rapporto inscindibile tra i cori natalizi e il Natale, tra i cori, la musica e il Natale. Comunque fa parte della nostra cultura quindi non scopriamo nulla di particolare. Anzi andiamo a consolidare quello che di buono abbiamo, a riscoprire qualcosa di bello e facciamo cultura anche in questo modo alleporano attraverso i cori natalizi.